signori buongiorno e bentornati sul canale del master k io sono il master k il vostro ospite su questo canale mi è successo di rileggere tutte le commenti che sono state le richieste e diciamo che cercando di metterle assieme è saltato fuori che la maggior parte delle domande riguardavano in un modo o nell'altro come faccio a strutturare la quest come faccio a non perdere il fio della quest come faccio a far capire ai miei giocatori quando sta per succedere qualcosa normalmente questo è dato dalla mancanza di una delle strutture fondamentali di quella che è l'arte narrativa la struttura in tre atti quindi dovendo fare le cose serie in questa nuova serie di video delle fondamenta del dungeon andremo prima di tutto a parlare della struttura narrativa in tre atti normalmente io qui sul canale vi dico sempre che quello di cui io parlo non sono regole incise nella pietra sono consigli che possono adattarsi al vostro stile che non possono adattarsi comunque che non è perché lo dico io voi dobbiate farlo questa volta no la struttura narrativa in tre atti si applica e basta la struttura narrativa in tre atti è uno strumento essenziale della narrazione viene usata per scrivere le quest viene usata per scrivere i film i telefilm i romanzi le barzellette qualunque cosa richieda un impianto narrativo anche i video che avete su questo canale sono scritti in base alla struttura in tre atti questa struttura è da tenere bene a mente sia mentre state scrivendo le quest sia quando le state mettendo in scena al vostro tavolo serve a far procedere la narrazione in maniera fluida e avvitare buchi di logica che la narrazione si ritorca su se stessa che si perda il filo di quello che si sta raccontando e alla fine non si vada a parare da nessuna parte la struttura consiste fondamentalmente nel dividere il racconto in tre blocchi chiamati atti il primo il secondo e il terzo quando a scuola vi facevano fare il tema li chiamavano inizio svolgimento e fine che è un po' improprio comunque si adatta in realtà sarebbe meglio chiamarli come situazione iniziale confronto e risoluzione nel primo atto viene presentata la situazione di partenza in pratica come stanno le cose prima che la storia cominci e l'incidenza iniziale quell'evento che mette in moto la storia che verrà poi giocata il secondo atto è diviso in due parti nella prima gli eroi acquisiscono tutte le informazioni che gli servono per comprendere meglio la storia fino a quando non succede qualcosa che mette in moto l'azione vera e propria a quel punto gli eventi precipitano spingendo il gioco verso il suo finale il terzo atto è il finale vero e proprio dove si trova il climax della storia gli eroi riescono a risolvere la situazione causata dall'incidenza iniziale e riportano le cose a uno stadio di equilibrio alla fine del primo atto e alla fine del secondo ci sono anche i due capovolgimenti di trama spesso chiamati plot point quegli eventi che cambiano la direzione del racconto per aumentare la tensione e le emozioni non vi preoccupate nei prossimi video vedremo gli atti singolarmente nei dettagli questa era solo un'introduzione per darvi un'infarinatura generale quella che vedremo in questi video è ovviamente una forma adattata per il gioco di ruolo e la forma che ho sviluppato io per il mio stile di masteraggio nel corso degli anni in realtà ogni forma di arte narrativa ha una sua propria versione con alcuna differenza della struttura in tre atti e all'interno di ogni arte narrativa ci sono varie scuole che propongono a loro volta versioni un po' differenti di una delle altre è comunque una struttura molto vecchia e molto ben collaudata non vecchia nel senso dai tempi di Gary Gygax vecchia nel senso la codificata Aristotele questo modello in pratica sta venendo usato ininterrottamente fino dal quarto secolo avanti cristo ed è presente in ogni film che avete visto e ogni romanzo che avete letto quando all'epoca Aristotele lo ha formalizzato nella sua poetica non l'ha inventato l'ha scoperto ha analizzato le principali opere del suo tempo ha visto quelle che avevano più successo quelle che avevano la migliore critica e la migliore risposta al pubblico diremmo oggi e ha scoperto che tutte le opere ritenute migliori rispettavano grosso modo lo stesso schema questo è fondamentalmente il metodo in cui agli esseri umani piace che gli vengano raccontate le storie è il modo più naturale per noi per rendere una storia più interessante al contempo anche più comprensibile oltre a facilitare la comprensione del racconto aumentare l'interesse sfruttare la struttura in tre atti è fondamentale per non perdere il filo della narrazione aiuta il master a tenersi focalizzato sulla serie degli eventi evita che la narrazione si avvolga su se stessa cioè una serie di eventi che sembra mandare avanti la trama ma in realtà risolti i quali i giocatori tornano a un punto in cui ne sanno esattamente quanto ne sapevano prima che tutta la serie degli eventi avesse avuto origine fa in modo anche che la storia cambia e si evolva in modo organico sapendo in anticipo quando dovranno esserci i principali ribaltamenti della trama il master può mantenere il massimo controllo sulla storia ma lasciare ai giocatori la più ampia libertà possibile sulle azioni da intraprendere avete mai preso parte a una di quelle quest in cui dopo un po che giocate magari dopo qualche mese avete l'impressione che gli eventi si svolgano a caso che in realtà non ci sia una relazione tra quello che state facendo che vengano istrodotti dei png e delle situazioni che poi non si sa che fine hanno fatto o magari vengono riprese talmente tanto tempo dopo che nessuno si ricorda più che cosa stava succedendo quando sono stati introdotti ecco quello probabilmente è un sintomo che il master o non sta impiegando la struttura narrativa in tre atti o la sta impiegando ma sbaglia quello che sta facendo diciamo che per questo video è tutto non vi preoccupate nei prossimi video delle fondamenta del dungeon andremo ad analizzare atto per atto e vedere quali sono i punti fondamentali per la scrittura di una storia organica e quando devono essere inseriti fino ad allora però mi interesserebbe sapere quanti di voi già conoscessero la struttura narrativa in tre atti quanti la applicassero e quanti invece siano della scuola di pensiero opposta cioè che improvvisino tutto mentre la quest procede senza darsi alcun tipo di struttura prima e nel caso vorrei sapere anche come fanno e perché hanno fatto questa scelta che è incredibilmente difficile in cui è incredibilmente facile sbagliare come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella io sono il Master Kai noi ci vediamo nel prossimo video ciao